ragazzi queste sono le serate meravigliose mi è appena successo una cosa bellissima che a pochissimi metri di fronte a me è passata una una volpe non si è resa conto della mia presenza pochi istanti fa qui sotto e ha continuato sulla sua strada ha fatto un tratto di strada di fronte a me poi è entrata nel bosco senza rendersi conto appunto della mia presenza ovviamente sono istanti molto molto belli ora questa zona qui forse ve la ricordate dove abbiamo parlato dei gusci all'interno dell'apparato digerente della volpe magari quella però qui ci sono anche altre tracce anche queste tracce qui adesso le riconoscete ma in questo caso sono leggermente diverse da quelle che abbiamo visto come buche fatte per scavare e tirar fuori del cibo da parte degli istrici perché in questo caso guardate qui la buca è più profonda è decisamente più verticale ed è servita non per cercare cibo ma per lasciarsi un bisogno dentro una buca sostanzialmente che è considerata tecnicamente una latrina guardate qui qui ce ne sono altri qui bisogni fatti su altri bisogni quindi sempre nello stesso punto proprio in questa zona qui e quando una di queste latrine è esaurita come ad esempio quella lì l'animale ne scava un'altra e poi un'altra qui sotto ci sono degli animali selvatici che utilizzano latrine che animali sono sono i tassi il tasso vive generalmente in in famiglie e utilizza le tane per moltissimo tempo ci sono addirittura delle registrazioni e si ipotizza che utilizzino determinate danie ovviamente ampliandole progressivamente per addirittura cento anni e più quindi una famiglia che porta avanti diciamo tradizionalmente la propria villa io qui sto progressivamente rientrando vedendo se riusciamo a individuare qualche segno della presenza dei tassi proprio perché si muovono qui intorno frequentemente ecco eccoci qua ecco qua allora qui abbiamo una serie interessante di tracce allora qui ci abbiamo si vede bene che qualcosa è stato calpestato ci sono dei cuscinetti del metacarpo e del metatarso ovvero della parte qui di questa zona qui della delle zampe anteriori o posteriori appunto metacarpo metatarso poi ci sono i fori delle dita quindi i polpastrelli digitali poi ci sono questi forellini qui questi più vicini alle dita sono delle zampe posteriori questi molto più lontani dalle dita sono delle zampe anteriori qui c'è la sovrapposizione di una zampa posteriore su quella anteriore appena lasciata e qui stessa cosa perché questo qui è il lato destro dell'animale che andava in quella direzione questo che è il lato sinistro dell'animale che andava sempre in quella direzione qui c'è una vecchia impronta analoga ma coperta d'acqua e quindi non più facilmente individuabile quindi qui c'è ecco qui qui c'è quella precedente quindi abbiamo queste due anteriore e posteriore del lato sinistro anteriore e posteriore del lato destro anteriore e posteriore del lato sinistro e così via e continuava in questa direzione qua quindi verso il volpe rossa camp qui vediamo se ci sono altre ovviamente nelle zone fangose è più facile individuare le tracce ma non è detto che non ci siano tracce anche in altre in altre parti ci sono delle tracce più complesse da da leggere come ad esempio questa qui quella lì è una traccia di cui se riuscirò a trovarne di più evidenti ovviamente ve la mostrerò quella lì è una traccia sempre di un mustelite perché anche il tasso è un mustelite quella lì è una traccia di una faina zampa molto più delicata dita polpastrelli delle dita molto più piccoli e quindi ovviamente una traccia molto più delicata lì addirittura c'era l'asportazione del fango piuttosto che comprimere il fango la superficie del fango stesso vediamo se riusciamo a trovare qualche altro segno eccolo qua a parte questa che è una traccia con quattro dita uno due tre quattro e un in questo caso un metacarpo cioè la zampa anteriore quello che è di un cane ma ecco qua quella che cercavo la traccia anteriore in questo caso molto molto ben visibile del tasso che stavamo seguendo prima in quella direzione abbiamo in questo caso soltanto la zampa anteriore ed è molto evidente il metacarpo un dito due dita tre dita quattro dita e poi qui c'è il segno del quinto dito leggero è il dito più interno ovvero viene chiamato il primo dito quindi questa che è una zampa anteriore del lato destro dell'animale e qui abbiamo i segni profondi delle unghie potentissime del tasso che utilizza proprio per scavare quelle tane di cui parlavamo e poi anche le latrine rientro ci vediamo alla prossima ciao